Siamo ancora con Sergio Perla che abbiamo l'onore di ospitare nei nostri spazi perché la sua saggezza ci ha portato ad avere delle domande dagli ascoltatori. Siccome abbiamo parlato di cose che non crescono l'altra volta nei mariti, qualche donna ci ha detto io vado a consultarmi con la socia, con la mamma, sul marito. Tu hai una storiella riguardo? Eh, la storiella ce ne sono, ma sai, su per giù, si rassomigliano a queste e molte volte sono ambigue. Per esempio, una mamma va a trovare la sua città che ti sposa da una settimana. Voglio sapere di più, ma quella città, perché mi fai così? Tu hai qualche pena? Giribbe tutto bene, sì, Basilio. Fu un sentantino più robusto sotto. Ma che dici, Fanny? Mi meraviglio. So sfortuneta, mamma. La ventotto. E te lamenti, stupida figliola? Ci la esse il tuo babo così bello? Ventotto solamente. È una parola, un affare così. Ma l'è il cervello? Ma la sposina non era convinta, perché ne arniva in mente. Invece ho detto che è un pareto da piscina in quinta, dalla maestra che faccia il merletto. Per cui diceva, e se mordì alle mene, si deve in totto, ce ne è solo uno. Perché mi toccò a me che so per bene, mentre l'altro l'han trenta e anche trentuno? E' fantastico, fantastico perla.